ok ricordare chi sono se dovessi dire come è successo potrei cominciare da qui wow l'ho trovata sul ciglio della strada in mezzo a nulla c'è stato un incidente qualcuno le ha fatto del male forse mi dia un nome mi sa di sì magari un contatto avrà un amico qualcuno che possa riconoscerla siamo di poche parole se lei non mi aiuta come facciamo così è inutile cosa è questa una cicatrice fermateli non hanno la minima idea di cosa li aspetta ditegli di attendere il mio arrivo gli urecchi mi stanno per scoppiare con questo audio ok siamo una ragazza c'è le armi ho capito che sono per potere però la ragazza di prima dove si trova che salgerati Sì Ok Questa è l'anteprima Ah questa è dopo Ok È finito un po' male per gli assopati La faccia vi ho detto che era una bambina Luisce a parte Ah lui è vivo però Ah proprio così Guarda ha ucciso un po' di persone L'esperimento A pezzi prologo Ok Questo tipo è la sua storia Ok Adesso dove Non dirmi che è ritornato indietro Ah ecco ti qua Come va oggi Jody Bene? Mi spiace disturbarti Mentre stai giocando Ma Credo che sia ora Come ora La povra Ok E' proprio così? Alla va Forza piccola Dopo potrei giocare quanto vuoi Dai posala Andiamola Ok Mi spiace Ok Nathan ci aspetta Oh ok Giro Ok Giro Vabbè questo episodio sarà solo Ciao Ehi Alan È quasi pronto Doveva esserlo da due settimane Ciao principessa Siamo proprio belle oggi Vedi che sono i superpoteri Va E' così la visuale però Ma deve entrare Fai il babysitter Eh Cole Divertente Phil Andiamo Nella porta io non ci sto ad entrare Mi spiace che io Ciao Gianni Come andiamo? Da tutto il vento? Sì bene Cos'è? Ok Non me lo prende Ok Ora ci mettiamo questo Ricordi? È come una corona Ecco fatto Oh ora sei una principessa Niente paura Andrà tutto bene vedrai Io sono qui accanto se hai bisogno Ok Ehi Jody Mi senti? Fai spalla luce Sì Vediamo Fai spalla luce Ok Ok Iniziamo Ok Catelyn è nell'altra stanza E ha le stesse carte che hai tu Adesso le chiederò di sceglierne una Poi tu ci dirai quale carta ha scelto Allora ci sei? Ok Sì dai Bene Allora cominciamo Prima carta Non ho visto che carta ha scelto Ah La mia linfamone faccio E noi abbiamo i trick Comunque questi sono lì in superpoteria Non so salire Ok È uno stella Ok la stella Vai 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 Manco delle verifiche a scuola Oh Come faccio? Ok Ah ok Giusto No ma seriamente ho sbagliato Io Era la stella Perché mi era la hit in quel modo? No ma lo so Qual è? Lo so qual è? Ah ok Me lo fa cambiare Ah Oh no Prossima carta Concentrati Mi ha detto Ok Vediamo la prossima carta Qual è? Vediamo Ma muoviti più veloce Perché gli entro il corpo Con questo superpotere strano Raga io non ci sto capendo più niente Che carta è? Quadrato Ok Quadrato Ok È tipo adesso Il prossimo Se vado sul quadrato Da solo Vai Andiamo Che le onde Vai Mamma mia Quanto siamo veloci Molto bene Molto bene Proviamo qualcos'altro Ci sono delle costruzioni sul tavolo Nell'altra stanza Pensi di riuscire a farle cadere? Farle cadere Ok Forte C'è altro C'è potenza Ormai Sto spaventato Per così Calma Che succede? Che hai? Che hai? Ok Oh scusa Non penso che è questo Le pulsazioni del soggetto Scendono a 45 wattiti al minuto È confermato aumento delle onde teta a 4 minuti a 5 minuti E adesso che faccio? Scusa Hai con ti prego Devi smetterla E se Va bene Smetterla Ok Mess Basta così Mi spiace Vale Me ne vado Ok Jody Cara L'esperimento è finito La porta è bloccata Mi dico che non si apre Forse è solo bloccata Adesso 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 Vai la parte Devi fermarti subito Jody Il test è finito Devi fermarti Basta Aiden Non toccare niente Ok Ok Jody Cara L'esperimento è finito Non passerà mai Tranquilla Dai Un altro Avete scelto costi e percorsi Hai formato l'esperimento Hai lasciato stare Bello Comunque Raga Per questo episodio Penso che va bene Sarà stato un po' Tipo piccolo Però va bene E' Per questo episodio Ovunque L'esperimento è finito Quanti Un altro